Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020 Seconda stagione signori, oggi siamo sul circuito di Cina-Shanghai, fattibile, fattibile, fattibile C'è da lavorarci poco ma è fattibile, potremmo fare un ottimo risultato Detto questo, prima di partire dal video, io vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ricordo di fare un salto sul mio secondo canale, mi trovate come Maullo941Biz In cui portiamo altri gameplay e altri videogiochi e altre serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook Dove tramite i social vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live Sia su questa piattaforma che su quella viola Di solito qui su YouTube mi trovate ogni sera, eccetto il sabato, alle 21 per giocare assieme Ultima cosa, date un'occhiata al link in descrizione per rimanere sempre in contatto con il canale Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo, io vado a farmi le prove libere off camera Dopodiché ci vediamo qui sul circuito per andarci a fare il giro di qualifica Ok ragazzi ci siamo, prove libere fatte Adesso abbiamo le qualifiche che saranno sotto un cielo nuvoloso E la gara che sarà sotto la pioggia Oserei dire che culo Va bene ma non preoccupiamoci Affrontiamo uno step alla volta Intanto andiamoci a fare il giro di qualifica Cercando di qualificarci il meglio possibile Spero che il format del vecchio video vi sia piaciuto Quello in cui ho messo anche delle altre visuali del Gran Premio Lo riproporremo anche in questo Spero che questa nuova tipologia di impostazione del video vi possa piacere di più rispetto magari a quella precedente E non perdiamo tempo, signori Abbiamo un giro da qualifica da fare Belli concentrati Scendiamo in pista come se non ci fossero domani Non è difficilissimo il Gran Premio del Bahrain, signori Non è difficilissimo Non è brutto Ecco, non è un brutto Gran Premio come certuni che sono terribili Questo è simpatico Gran Premio C'ha un bel rettilino soprattutto alla fine C'ha delle curve facili Ecco, mettiamola così Quindi mi piace il Gran Premio Speriamo di riuscire a fare una buona qualifica Perché domani sotto la pioggia la vedo difficile Anche se l'ultima volta abbiamo avuto dei Gran Premi sotto la pioggia Diciamo che ce la siamo sempre cavata abbastanza bene Ce la siamo cavata sempre abbastanza bene Quindi, chi lo sa Può essere magari pure questa se fosse la volta buona Qui abbiamo leggermente tagliato Ma, dettagli, dettagli Superfluo Nessuno ha visto niente? Qualcuno ha visto qualcosa? No, i commissari non hanno parlato Per fortuna Stavolta si sono fatti fatti loro Non ci hanno rotto le scatole E va bene così, va bene così Siamo attualmente terzi Io sto parlando Non ho visto minimamente che stanno a fare Come giro Ora siamo primi Cioè, passiamo da una terza posizione Dalla quarta posizione Alla prima posizione Con lo schiocco di dita Bellissima questa cosa Però va bene Dai, con calma questa curva Questa andrebbe fatta tutta aperta Per aprire al massimo la macchina E invece La facciamo stretta Siamo quinti E l'ho detto Abbiamo perso tantissimo Facendo quella curva stretta Ma non fa nulla Non fa nulla Quindi va bene Quindi va bene Ora c'è la staccatona Sulla quale riusciamo a recuperare qualche altra cosa Dai, 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 dai Dai, 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 dai Buona L'abbiamo fatta perfetta Sta curva Signori Da quinti a primi Bella così Cerchiamo di non sbagliare anche l'ultima Dai, 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 dai Leggermente larghi Apriamo il DRS Primi, signori Bella così Prima pole position della stagione Dai così Abbiamo bruciato tutti Abbiamo bruciato tutti Nelle ultime due curve Porca miseria Eravamo quinti Sul penultimo rettilineo Sul penultimo rettilineo Eravamo quinti Abbiamo bruciato tutti Bella così Prima poco maullo Maullo papa Poi botta Hamilton Albon Verstappen Vettler Leclerc Le due Ferrari Indossa Ghiotto Ventesimo Ghiotto Non riesce a ingranare Ghiotto Signori Ghiotto ancora Non riesce a ingranare Ma noi crediamo in lui Noi crediamo in lui Signori Noi crediamo in Ghiotto Quest'anno Ci terremo questo secondo pilota Fino a fine stagione L'anno scorso avevamo iniziato con il coreano Con il samurai Con Matsushida E poi siamo passati a Che c'è dal nostro Ad Alesi È vero Ad Alesi Ad Alesi Quest'anno invece Dobbiamo riuscire a portarci a casa Ghiotto Fino a fine della stagione Dai così Ci vediamo in pista signori Per la gara Niente signori Tom non parla oggi Oggi Tom Mi sa che questo tempo È rimasto a dormire sotto le coperte Bella Bella al calduccio Questi non ci hanno manco un ombrello Perfetto Dico I soldi ce li abbiamo signori Un ombrello per coprirvi la testa Lo potreste anche comprare Va bene signori Stiamo calmi Concentrati Caliamo la visiera E partiamo col gran premio Dai 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 Ok Una luce Due luci Tre luci Quattro luci Cinque luci Attenzione signori Partenza importantissima Attenzione 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 Con calma Dobbiamo tenere tutti dietro Come se non ci fosse un domani Dai Dai Occhio Primo gran premio sotto la pioggia Tra l'altro Primo gran premio sotto la pioggia Signori Mamma mia quanto piove Mamma mia quanto sta piove Signori Mamma mia Calma Bisogna frenare tantissimo prima Dai 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 così Dai così Dai così Zio Bandiera verde Che è successo Si sono ammazzati là dietro Forse sì Forse no Calma 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 Tieni la macchina Tieni la tiene Perfetto Qui freniamo un po' di più Dai 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 Completiamo questo primo giro Dai 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 Stiamo frenando tantissimo Però Devo prendere un attimo le distanze Con le misure con la pioggia Signori Non è la cosa più facile di questo mondo Bottas è È È È È La macchina bella Pulita 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 Dai 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 Ok Apri la moneta da sorpasso Come se non ci fosse un domani Non andare sull'erba Dai 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 Tanto qui il DRS In questa gara Allora in questa gara Se ci fosse stato il sole Col DRS ci sverniciavano Che non era normale Signori Ma con Ma con la pioggia Il DRS non lo può aprire nessuno E quindi Potremmo dire la nostra Potremmo dire la nostra Signori Cara bella tranquilla Stiamo risalzati Che forse riusciamo a portarcela a casa in solitaria Dai Dai così Dai così È un giro andato È un giro andato signori Abbiamo fatto anche il miglior giro Porca miseria Porca miseria Tanta roba Tanta roba Calma 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 Dai 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 Io spero che il ghiotto là dietro stia facendo qualcosa di buono Sfrutti anche lui la pioggia Per suo favore stia facendo qualcosa di buono Cercato di buttare un occhio sui pallini Che ci sono sul grand premium Ma È impossibile capirlo Oh abbiamo fatto pure un ottimo primo settore Dai così Dai così zio Dai così che ci portiamo a casa pure il punticino del miglior giro in pista Dai così Occhio calma Che qui la macchina scivola non ci sta nulla Perfetto Mamma mia oramai La maulo racing oramai È una signora macchina Perfetto che Che ghiotto non riesce a farla correre come dovrebbe Però va bene Va bene La svilupperemo abbastanza da dargli un missile sotto il sedere anche a ghiotto Tranquilli signori Tranquilli Riusciremo anche a far questo Ottimo Anche il secondo settore è stato un ottimo settore Dai così Dai così Dai così Che facciamo un super girone Dai 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 Perfetto Apri il cosino qui La modalità al sorpasso Dai così Dai così Che stacchiamo anche un ottimo terzo settore Siamo a un secondo di vantaggio su botta Stacchia il secondo Dai così Dai così Dai così Dammo Dammo No Dovevo frenare un poco prima Va bene Va bene Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Bello No no Mi stava a partire la macchina signori Mi stava a partire la macchina in In derapata Però vabbè L'abbiamo tenuta Non so come me l'abbiamo tenuta Dai così Si scarica pure questo Ottimo terzo settore signori Ottimo terzo settore Un secondo e sette rifilata a botta Non ce n'è Non ce n'è Dai 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 Facciamo benissimo questa prima parte Dai 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 Buona cosa Buona cosa Dai 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 Scarica Scarica Dai macchinina Dai macchinina che ci siamo Dai macchinina che ci siamo Frena 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 Bene Frena Bene Aia Qui abbiamo tagliato un poco troppo Vabbè Stavolta se ne sono accorti i giudici di gara Stavolta i giudici di gara se ne sono accorti Mannaggia allora Mannaggia allora Invece di mangiarsi di pop corn E guardarsi Le altre Qualche serie televisiva Stanno a guardare il Gran Premio Mannaggia Mannaggia loro Abbiamo perso un poco in questo giro In questo giro abbiamo perso un poco Mi sono distratto un attimino Mi sono distratto un attimo Abbiamo perso tantissimo in questo giro Decisamente sì Decisamente sì In questo giro abbiamo perso tantissimo Mi sono distratto un attimo Abbiamo perso tantissimo Bottas è tornato ovviamente dietro il nostro dito di noi Dai cos'è Dai cos'è sotto un secondo Meno male che non c'è il DRS signori Ci sverniciava male Meno male che non c'è il DRS La pioggia ci avvantaggia, la pioggia ci avvantaggia decisamente Dai, 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 dai Occhio qui che ti partiamo avanti il reddito No, un secondo e quattro Sì, sì, decisamente un secondo e cinque Decisamente la pioggia ci avvantaggia Signori, buono così, buono così Qua siamo andati leggermente a fragole, però vabbè, non fa nulla Non fa nulla Un ottimo terzo settore Un ottimo terzo settore Peccato per quello centrale Ah, qui la prendiamo troppo l'arca Dai, dai, dai Con calma, con calma Siamo al quarto giro, ne mancano due signori Ne mancano uno e mezzo, dai, uno e mezzo Diciamo così Dai, dai, dai Dai così Dai, macchinina Un secondo e otto Dai, stiamo rifiutando due secondi a Bottas Grande prestazione Grande prestazione della Molo Racing Che macina ancora punti anche al terzo Gran Premio Terzo Gran Premio Torna a macinare punti, signori Dai così Dai così Dai così La Ferrari Key, signori La Mercedes Key, signori La Red Bull Key C'è la Molo Racing oramai Anche se abbiamo un secondo pilota che è inguardabile Però, 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 però Non si può avere tutto alla vita Piano, 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 piano Svilupperemo la macchina anche Ghiotto Ci darà le soddisfazioni di cui Che meritiamo Anche Ghiotto si farà sentire Anche Ghiotto si farà sentire Secondo settore ottimo Secondo settore viola Buono così, buono così Però, ragazzi, siamo messi che Se sbagliamo un settore L'altro lo facciamo perfetto Un po' troppo alternanti Comunque Dai, dai Apri, 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 apri Apri tutto Perfetto Bello così Due secondi e tre Rifilati a Bottas, signori Il campione del mondo in carica Bottas Non riesce a tenere il ritmo Della Molo Racing Non ce n'è qui in Bahrain, signori Qui in Bahrain non ce n'è Non ce n'è Occhio che parte la macchina Però va bene Dai, 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 dai Dai Camprima e tranquillo Camprima e tranquillo Camprima e questa volta Non ci siamo ammazzati con nessuno Per fortuna Per fortuna Non lo vorrei dire Non ci siamo ammazzati con nessuno Perfetto Miglior giro staccato pure qua, signori Vediamo se riusciamo a fare Un terzo Un ultimo giro Spettacolare Vediamo se riusciamo a fare Un ultimo giro spettacolare, signori Vediamo, vediamo Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo Dai 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 A questo punto devo sempre sperare che in tutti i Gran Premi piova signori Perché se piove in tutti i prossimi Gran Premi abbiamo vinto il Mondiale Se in tutti i prossimi Gran Premi piove abbiamo decisamente vinto il Mondiale signori Perché con questo ritmo che riusciamo a tenere è pauroso Dai 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 abbiamo rifilato Mannaggia Ah devo fare un giro perfetto Io per guardare questa botta stendendo alla minimappa Ho sbagliato completamente tutta la traiettoria del settore centrale Dai 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 Scarica un po' con la modalità a sorpasso Un settore centrale verde Se riusciamo a fare un terzo settore viola Forse potremmo aver fatto l'ultimo miglior giro della gara Dai 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 Scarica 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 Ok apri 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 Dai modella sorpasso attiva Dai così 3 secondi e 3 a botta Non lo vedo più nella minimappa signori Spettacolo Basta mi finisce la benzina che sta a lampeggiare la cosa mi preoccupa Però dovrebbero aver fatto i giusti calcoli ai box No? Sennò cosa li paga a fare? Dai così Dai 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 Grande giro Grande gran premio Grande gran premio signori Arriviamo sotto la bandiera a scacchi Dai così Andiamo verso i nostri box Grande vittoria Prima vittoria di stagione della Maullo Racing E di Papa Maullo signori Dai così Spettacolo Spettacolo Dai dai Pilota del giorno Papa Maullo Finalmente lo riconoscono Porca miseria Finalmente lo riconoscono Dai così Guardalo lì Lo zio Lo zio Maullo Che festeggia Che festeggia Dai così Ci devi mettere i sordi Zio E Papa Maullo che festeggia Dai 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 Bello 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 Ottimo 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 gran premio Ottimo gran premio Mi è piaciuto Mi è piaciuto proprio Mi è piaciuto proprio Liscio liscio Dopo una gara del genere Sono stanco io Non oso immaginare loro Hanno lavorato solo Io non sono tanto stanco Però va bene Però va bene Ah così E si festeggia Ce la portiamo a casa Bahrain è casa nostra Signori Bahrain è casa nostra Lape gialla Porta a casa i tre punti Bottas festeggia Hamilton non lo caga nessuno Hamilton si fa i fattacci suoi Va bene Va bene così Dai così Dai così Bello 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 Risultato veramente importante Risultato veramente importante Vediamo un attimino La classifica Allora Bottas Hamilton Albon Verstappen Leclerc Vettel Leclerc Sainz Kivet Ricciardo Ok Mazzucida Mazzucida È arrivato quattordicesimo E Ghiotto Ventesimo Niente È partito ventesimo È arrivato ventesimo Non ha capito che deve Sorpassare le altre macchine Ghiotto Va bene Posizione in classifica Siamo secondi A 33 punti Da bottas Buono così Buono così 62 punti 10 punti Sopra Sopra Verstappen Va bene Va bene Va bene Andiamo Andiamo Oh Giorgetta Dai dai Mi è piaciuto anche a me Dai dai Meglio che vincere in Cina Ma veramente È stata fatta Il motore Sia stato Gettato Per questo circuito Dai 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 Andiamo Effettamente Sono Non avrei potuto fare senza una grande squadra Senza una grande squadra Dai Parliamo bene anche di tutta la squadra Dai Dai L'aerodinamica Puff L'aerodinamica Ma ha fatto un grandissimo lavoro Ehm Ho cambiato la strategia Ma i migliori piloti Hanno comunque dato il meglio Non ha Non ha Flushato il nostro morale Dai Anzi 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 Guardate l'idea L'adietro C'era Ghiotto C'era Ghiotto Che parla forse con Bottas Non lo so Però Ghiotto mio Te devi svegliare Ghiotto Ghiotto Ti devi svegliare Che stavo a fare Ghiotto Te devi svegliare Ok signori Ehm Detto questo Va bene così Ottima prestazione in Bahrain Il prossimo grand premio Sarà il grand premio Di Olanda Ad Olanda Noi comunque Per questo video Ci fermiamo qui Io vi ringrazio sempre Per aver guardato Per il video Per i like Per i commenti Per il supporto Che è dato alla serie E al canale Spero che questa nuova impostazione Dei grand premio Vi piaccia Fatemi sapere se volete Ancora L'alternanza Fra La visuale Diciamo in terza persona E la visuale Da dentro la macchina O se volete Tutto il grand premio Fatto con la visuale In terza Nel senso Da fuori Fatemelo sapere Questo nei commenti Anche se sto perfettamente Che in questa parte del video Non ci arriverà nessuno Detto questo signori Grazie ancora Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao